Andiamo avanti. Dicevi che avrebbero provocato il popolo trattandolo brutalmente. Perché non fanno come avevi detto? Il re ha rivolto una domanda al primo ministro. I romani sono uomini strappi, mio altissimo sovrano. Essi sono imprevedibili. Specialmente uno fra loro. È maestro dell'imprevisto. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Questa canzone mi piace tantissimo. Non capisco niente di quello che dicono. Però il suono, cioè la melodia e il suono delle parole fanno sì che mi succeda qualcosa di veramente bello all'interno delle pareti della mia mente. Parlo troppo. Però è forte. Nel senso che poi di una canzone, anche se non capisci il testo, va bene. Non capisci un compisci il testo. Non capisci il testo. d'all MmDo di tutti. Non capisci il testo, va bene. Non capisci il testo. Il testo tutto il passo, va bene. D'all metà dove all'imite a te peraltro. O Cidero di veramente la ciò. Mohu vuole delle parole, il testo il testo. Grazie a tutti Grazie a tutti